Puntualmente in ritardo riprendiamo la nostra riflessione di questa mattina. Quella di questa mattina non è difficile, le prossime saranno leggermente più impegnative di questa. Allora abbiamo visto che la Didache presenta il Padre Nostro dentro alla preghiera liturgica, mentre invece Matteo e Luca ci mettono un po' in imbarazzo. Perché? Perché Matteo colloca il Padre Nostro all'inizio dell'Apostolato pubblico di Gesù. Il Vangelo di Matteo è semplicissimo. Dopo i Vangeli dell'infanzia, voi avete una parte narrativa e poi il discorso della montagna, un'altra parte narrativa e poi il discorso apostolico. Una parte narrativa è il discorso parabolico, parte narrativa è il discorso ecclesiastico, parte narrativa è il discorso escatologico. Provate a contare quanti sono i discorsi. Sono cinque, vero? In greco? Pente. Non vi viene in mente niente? Questo è il pentateuco cristiano. E Matteo scrive per gli ebrei, convertiti al cristianesimo. E colloca il Padre Nostro dentro al discorso della montagna con una violenza letteraria che fa spavento. Gesù sta trattando i tre temi della spiritualità ebraica che sono l'elemosina, la preghiera e il digiuno. E ad opera le frasi fatte. Quando fai l'elemosina, non fare come gli ipocriti. La tua destra non sappia quello che fa la tua sinistra e il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa. Sulla preghiera, non fare come gli ipocriti che pregano davanti a tutti per farsi vedere. Tu chiuditi nella tua stanza e il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa. E via. Quando fai il digiuno, profumati la testa, eccetera. E il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa. È uno schema ben preciso. Quello sulla preghiera è uno schema spezzato perché viene introdotto dentro il Padre nostro. Questo ci sta a dire dunque che sul discorso della montagna originario Matteo ha infilato dentro la preghiera del Signore. e quindi si trova in una situazione storicamente artificiale. Teologicamente perfetta. Tu non puoi, dice Matteo fondamentalmente, non puoi pregare Dio se non accetti questi valori. Il discorso della montagna è fondamentale per non dire stupidaggini quando si parla di cristianesimo e di Bibbia. Perché in questo discorso Gesù dice in passato vi fu detto ma io vi dico. E quindi tutte quelle atrocità che noi troviamo nell'Antico Testamento Gesù le boccia. cioè non appartengono al cristianesimo ma fanno parte di quella storia attraverso la quale un popolo è maturato. E quindi dire a un cristiano cosa vuoi tu presentare Gesù nella Bibbia ci sono atrocità. Sì, è vero. però leggiti il discorso della montagna e vedi che tutto questo è confinato in una storia di un popolo che è partito da una rozzezza domitevole e progressivamente si è affinato. quando io faccio il tema della guerra nel mondo orientale mostro come nei testi cuneiformi e nei testi biblici arcaici quindi siamo verso il mille circa avanti Cristo il nemico si uccide perché se tu non lo uccidi domani lui può uccidere te. Poi verso la metà del millennio inizia il ragionamento marxista il nemico è forza lavoro quindi non lo si uccide lo si schiavizza produce tenete presente che la schiavitù in Oriente non è quella che conoscete voi non mi stancherò mai di dirlo quella che conoscete voi è la schiavitù greco-romana in cui l'individuo era un animale in Oriente è un operaio coatto cioè è uno che deve stare sotto quel padrone sempre ma viene pagato prova ne sia che lo schiavo orientale può riscattarsi siamo nel secondo secolo avanti Cristo il nemico non lo si uccide e non lo si riduce a forza lavoro lo si riduce ad alleato continua ad avere il suo sovrano le sue leggi solo che mi paga è esatto un tributo sono forme diverse noi non possiamo mettere insieme l'età della pietra con l'attuale età tecnologica sono due mentalità due culture due concezioni della vita completamente diverse uno stato se l'uomo di Neandertal fosse stato capace di inventarlo non aveva bisogno delle pensioni 35 anni 40 morivano non c'era bisogno di consolidare il matrimonio non riuscivano ad avere l'amante morivano prima concezione di stato nel nuomo di Neandertal sarebbe stata totalmente diversa dalla concezione di stato che abbiamo noi oggi Luca invece come presenta il padre nostro Luca concepisce la vita di Gesù come un grande viaggio parte dal nord per arrivare a Gerusalemme dove muore in questo viaggio Gesù un certo momento prega quando lui finisce i discepoli gli dicono senti tutti gli altri rabbini compreso Giovanni Battista hanno insegnato ai loro discepoli la preghiera distintiva del gruppo cioè uno si faceva a riconoscere dagli altri come appartenente al loro gruppo attraverso questa specie di preghiera segreta che solo i discepoli di quel maestro conoscevano allora per dimostrare di essere discepoli di quel maestro tu dicevi la parola d'ordine e cioè la preghiera segreta è questo che i discepoli stanno chiedendo a Gesù nel Vangelo di Luca insegnaci a pregare come Giovanni Battista ha insegnato a pregare i suoi discepoli e quindi Luca chiarisce in maniera proprio estremamente concreta che il Padre Nostro è la preghiera distintiva del cristiano il cristiano può pregare tante altre cose ma ciò che lo identifica come tale è il Padre Nostro bene storicamente Luca mantiene la tradizione genuina Gesù ha insegnato il Padre Nostro dopo aver pregato e perché i discepoli abbiano la preghiera distintiva noi oggi se apparteniamo a qualche club mettiamo sul bavero loro invece erano abituati a non mettere sul bavero niente perché non avevano baveri però ad avere questa specie di formula particolare che li distingueva dagli altri la didache infatti dice voi pregate il Padre Nostro tre volte del giorno mattina mezzogiorno sera lodi del mattino ora media vesperi la struttura della preghiera di noi preti è la stessa cosa solo che voi avete un Padre Nostro noi invece abbiamo un inno tre salmi una lettura breve un zovaiter bene vediamo per quel tempo che ci resta il contesto storico di Gesù che mi inventa questa preghiera allora la prima cosa che noi constateremo passando in rassegna le singole affermazioni è che Gesù conosceva l'Antico Testamento meglio di qualunque laureato all'istituto biblico orientale e quindi tutto il Padre Nostro è impastato di teologia vetero-testamentaria soprattutto profetica però c'è anche qualche cosa di più se voi leggete con attenzione i Vangeli troverete spesso questa dicitura e Gesù entrò come il suo solito in sinagoga questo ci dice che tutte le grandi predicazioni di Gesù non lo dovete pensare di fronte a grandi colline grandi prati le faceva in sinagoga e quelle piccole frasi che noi troviamo sono riassunti di un'omelia di Gesù nella sinagoga essendo lui rabbino itinerante se i rabbini itineranti erano i migliori lui aveva il diritto di prendere parola dove e quando voleva e quindi quando entrava in sinagoga nessuno si permetteva di parlare essendoci un rabbino itinerante se venisse qui il professor Zichicchi o il professor Rubbia chi di voi oserebbe parlare di astrofisica nessuno ora nella sinagoga all'epoca di Gesù qui abbiamo dei punti di domanda ma sembra esistesse una preghiera noi oggi questa preghiera la chiamiamo Kaddish santità di questo Kaddish noi conosciamo diverse forme però il grosso guaio è la datazione di questo Kaddish nella sua forma più arcaica se voi date un'occhiata alla linea 89 avete tutti i tipi di Kaddish che noi conosciamo dal medioevo in qua ma quando dal medioevo cerchiamo di andare indietro cominciamo ad avere delle difficoltà perché perché ci sono due due dati da tenere presente il primo dato è la documentazione e la documentazione ci dice che prima del 300 circa dopo Cristo non abbiamo il testo del Kaddish prima testimonianze sono le soglie del IV secolo dopo Cristo d'altra parte noi conosciamo molto bene quello che è il problema della tradizione orale perché un secolo dopo viene pubblicato una grossissima opera che ancora oggi condiziona la religione ebraica che è il Talmud il Talmud è del V secolo sì però contiene la Gemara che è del IV e del III secolo dopo Cristo ma questa è un commento della Mishnah che è del III e del II secolo avanti Cristo la quale è testo scritto che rispecchia a sua volta attraverso le cosiddette catene rabbiniche l'insegnamento rabbinico del I secolo dopo Cristo del I secolo avanti Cristo del II secolo avanti Cristo per cui noi oggi attraverso questi scritti del V secolo dopo Cristo noi risaliamo al testo scritto fino al II secolo e poi alla tradizione orale fino al II secolo avanti Cristo sono 700 anni il Kaddish ha più o meno la stessa avventura per cui sì è vero che il documento più antico potrebbe risalire all'inizio del IV secolo ma la tradizione rabbinica ci dice poi faremo una breve considerazione sulla tradizione rabbinica ci dice che è stato inventato dopo il ritorno dall'esilio di Babilonia cioè dopo il 538 avanti Cristo sulla tradizione rabbinica bisogna mettere un po' le molle perché ci sono tante cose che non quadrano Mosè ha scritto la Bibbia però ha ricevuto anche la rivelazione orale che lui ha trasmesso ai rabbini ma quanto mai questa tradizione rabbinica è proprio quella che Gesù contesta se hai 100 euro in tasca tuo padre te li chiedi ma tu nel frattempo hai pensato di darli al tempio anche se sono in tasca tua sono già del tempio quindi non li puoi dare al tuo padre e Gesù dice oh comandamento dice onorato dai il giusto peso a tuo padre e a tua madre non dice questa roba qua questa roba qua la dicono i rabbini eh ma questa è una tradizione che viene da Mosè da quando? mi spiego? Gesù ha anticipato Chesterton Chesterton diceva quando entro in chiesa levo il cappello non la testa e Gesù ti abitua a ragionare così per cui oggi è un po' difficile stabilire la data della nascita del Kaddish molti studiosi soprattutto ebrei come Geza Vermesh pensano che sia possibile che il Kaddish possa essere nato più o meno in epoca post-macabaica questo è un dato abbastanza accettabile di conseguenza Gesù può averlo conosciuto e può averlo recitato andate alla linea 96 questa è la versione italiana del Kaddish sia magnificato e santificato il suo grande nome nel mondo che egli ha creato conforme alla sua volontà venga il suo regno e possa la sua salvezza manifestarsi e il suo unto arrivare durante la vostra vita loro aspettano il Messia e la vostra esistenza e durante l'esistenza di tutto il popolo presto e nel più breve tempo e dite Amen sia il suo grande nome benedetto per sempre e per tutta l'eternità l'ho dato glorificato rialzato elevato magnificato sentite la cantilena del gloria a Dio nell'alto dei cieli quello che noi preghiamo durante la Messa se voi leggete è una cantilena come questa e lì sia al di sopra di ogni benedizione canto celebrazione e consolazione che noi pronunciamo in questo mondo e dite Amen possano le preghiere le suppliche di tutto Israele essere accettate dal loro padre che sta wow questa è di epoca ellenistica cielo non c'è lì però il Kaddish è in lingua aramaica comprendete dunque io vi ho sottolineato tre cose importanti ma ce ne sono ben altre dentro a me interessa che ci sia questo punto di riferimento per capire come la preghiera di Gesù nelle singole parti non sia proprio originalissima non è un'invenzione pura è un distillato e nel suo insieme che è qualcosa di unico e di originale bene l'anima 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 Grazie a tutti